Eccoci all'area del mondo! Siamo a Napoli! Guardate dove siamo! Su una zattera! Mena, tu sei alla guida! Che bello! Wow, c'è la nave pirata! Leggiamoci! Oh, si parte! Che bello! Oddio! Il bagno! Che bello! Stiamo arrivando! Wow! Facciamo tutti il percorso! Wow! Che bello! Mamma mia! Guarda, è terrificante! Wow! È tutto buio! Wow, una nave pirata! Vediamo che succede! Wow, c'è il pirata! Wow, che bello! Guarda, si vede il mare agitato! Oddio! Che bello! C'è l'occhiello, è troppo pirata! Ma tutto il tesoro! Che bello! Sei pronta? Sei pronta? Vai! Brava, Daphne! Guarda, Daphne, guarda, che bello! Daphne, guarda, che bello! Dimmi, reggetevi forte! Oddio, ce la faremo! Ce la faremo! Gli occhiali! Ci siamo! Ce l'abbiamo fatta! Metti gli occhiali! Metti! Vai, Daphne, vai! Sei coraggiosissima! Wow! Ma io mi sono messa paurissima! Ti sei messa paurissima! Ce la possiamo fare! Oh! E' tutto buio! Dove stanno quelle due scaricolate? Wow! Wow! Sono i quadri! I quadri spaventosi! Come si fa adesso? Come si apre? Come si apre questa porta? È chiusa! Siamo rimasti fuori la porta! Oddio! Questi quadri sono spaventosissimi! Questa è bella! È bella! La devi vedere adesso, Dio! Guarda, guarda! Sta diventando bruttissima! È bella le cataventi! Oddio! Com'è brutta! Wow! Si è aperta finalmente la porta! Che succede adesso, Francesco? Che succede adesso? Dobbiamo aspettare! Cosa c'è lì dentro? Eh! Lo scopriamo dopo! Quando si apre da solo la porta! Adesso è chiusa! Guarda! Ci hanno chiusi dentro! Adesso che facciamo? Eccoci! Che succede? Siamo in trappola! Guarda, il tetto! Sta venendo verso di noi! Scampiamo, scampiamo! Wow! Una scala bellissima! Guarda! È tutto spaventoso! Come si fa? Guarda! Si vedono le mie tuccaeva! Voi trovi! Ciao! Andiamo? Uno, due! Ce l'abbiamo fatta! Che facciamo? Scendiamo? Scendiamo! Scendiamo! C'è in intermela! Sono passate da sole! Guarda! È tutto! Wow! Ciao! Benetri! Ciao! Ciao! Buon Halloween! Che bello! La casa dei fantasmi! Wow! Siamo arrivati! Bravissime! Dove siamo di bello? Sulla ruota! Spaventosissima! Che bello! Guardate come andiamo in alto! Wow! Siete spaventate! No! È tutto spaventoso, è vero! Guarda come siamo in alto! E' un po' di fermato qua! Guarda, mamma mia! A me è qua! Ci siamo fermati! Eh sì, ci siamo fermati al centro, in alto! Soprono di vertigini, papà! Ma quali vertigini? Papi, ma veramente il fermo! Ci siamo fermati! Ma la città di scendere! Restiamo sulla ruota! Daphne, come facciamo adesso? Si sta muovendo di nuovo! Scendiamo, che bello! Ciao! 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 Vi siete divertite? Sì! Vabbè, città di sì! Sì! Vabbè, città di sì! Ti sei divertita? È ricca fredda! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso siamo pronti per andare sul treno. Eccolo. Che bello. Ma è bellissimo questo treno. Wow, molto. Bellissimo. Eccoci in partenza. Sei pronte? Sì. Wow. Eccolo. 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 Wow. Che bello. Wow. Che bello. Il circo, il circo. Wow. E' bellissimo. Che bello. Che spettacolo. Mamma mia. Mamma mia. Che bello. Che bello. Guarda il castello. delle dell'aglia. Che bello. Guarda. C'è la nave pirata di prima. E qua ci sono altre giustine. Che meraviglia. Stiamo andando nel castello. Stiamo andando nel castello. Che profumo di pollo. Wow. Guarda la casetta dove abbiamo mangiato la pizza. Da qui si vede anche la ruota panoramica. Ci sono le giustine. Guarda, ci stiamo avvicinando al Polo Nord. Cosa c'è? Cosa c'è? Wow. Wow. Il fungone! Che bella giuda. è bellissimo è una caffetta forma di fungo wow c'è un livrone enorme unicorni eccoli ciao unicorni latinello il pianca diere guarda c'è pure la caffetta c'è il brontolo e siamo arrivati andiamo in una giostra super pericolosa volete andare da dentro? guardate che bella super pericolosa andiamo ecco che ritorniamo dalle papere gondole che meraviglia ciao che c'è? c'hai fame? sta indicando che ha fame aspetta ora prendiamo qualcosina e te la dico anche per te non ti preoccupare va bene? guarda come è passato oh si tutto a posto non ti preoccupare ora ti diamo quello che vuoi eccola l'ha preso ed è conclusa qui una bellissima serata alle dell'Andia ciao alle dell'Andia vi siete divertiti in questa giornata di altri? ciao ciao a tutti ciao 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 ciao